Tra rose e fiori nasce l'amor, Elvis e Fox si vogliono sposar Partono in due, tornano in tre Ok, ciao a tutti e cio ragazzi Porca tro... Ciao a tutti e cio ragazzi Porca tro... Oggi andiamo a giocare la Pixelmon Porca tro... Oggi andiamo a giocare la Pixelmon Una minuta... Porca tro... Renni, Renni... L'ho preso... Come la prende il cazzo di fluo? PIA A TE! No, no, no... Sì? Renni, 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 l'ho preso... Sì? Ma vai, vai, vediamo Vai! prendi la pistolata d'acqua un pigiotto che bello comunque questo è lo spawn e possiamo andare là a curarci i pokémon c'è il centro pokémon ci sono case intorno e c'è uno spawn strafiero che bello ho preso vulpix a livello 10 dove c'è? ma se tiro un pokémon da ma si rogni no ma c'è un ah la pianta non è un pokémon ho distrutto geodude poverino sto cassa vorrei anche toglierlo dai cocones minchia io sarò una capopalestra di pokémon tipo roditore perchè rosichi ronny 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 mi fai tristezza mi fai tanta di quella tristezza hai fatto un cubo sii mettiamo il vetro mettiamo il vetro un vetro legno non è bellissimo no eh io ti denuncerei per questa cosa non vedo sta parlando di me no ha sciottato poverino oh 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 mi sta evolvendo lo squirtle oh sii no ma l'animazione è dentro di me è l'animazione è vero non diventava di watch vabbè non ci lamentiamo di portarlo comunque eh vedi c'è la piccola si guarda è bellissimo eviterassi tutto questo e lo mettessi con lo schermo del luce è una brutta cosa beh ci ho preso anche io è quello lì che provo a migliorare il tutto oh ho preso un cadavra a livello 16 ok ecco vabbè per questo serie è tutto adesso spacco di botte Elvis ciao ragazzi ciao